Crampi, edema con ritenzione di liquidi negli arti inferiori, ma anche malessere, spossatezza, svenimento e colpo di calore, che nei soggetti più fragili possono arrivare a danneggiare perfino gli organi interni se non si riesce a ripristinare una normale attività di termoregolazione. Sono questi alcuni dei sintomi più frequenti dell'esposizione al caldo intenso in arrivo anche nella nostra regione, con picchi di temperature che potrebbero far rimpiangere le perturbazioni dei giorni scorsi. A patirne di più saranno soprattutto i soggetti fragili come gli anziani, ai quali è necessario prestare maggiore attenzione, come spiega il Tg8 la dottoressa Rosa Scurti, direttrice dell'unità operativa complessa di geriatria della Asla di Pescara all'interno dell'ospedale Santo Spirito. Quali sono i rischi per i pazienti, in particolare con fragilità e parliamo in questo caso degli anziani? Il caldo è chiaramente un momento critico per il paziente anziano in generale, sia quello diciamo fit, cosiddetto fit, che nel paziente con fragilità. Il rischio è quello della ridotta percezione del calore, quindi della ridotta percezione della sensazione di sete, quindi il caldo aumenta la sudorazione, aumenta la dispersione di liquidi dall'organismo, quindi dovranno essere reintegrati, quindi noi adulti, soggetti normali, abbiamo la percezione della sete per cui beviamo conseguentemente alla dispersione di calore che abbiamo. L'anziano percepisce meno questa sensazione, per cui tende per natura a bere di meno, quindi quello a cui bisogna il familiare, il congiunto deve stare attento e garantire un'adeguata idratazione che può essere fatta sia invitando il soggetto anziano a bere di più, sia ad alimentarsi con cibi, con frutta fresca, con gelati, qualcosa che possa reintegrare la perdita di liquidi. In passato nel reparto di geriatria ci sono stati un po' di problemi per il sovraffollamento, soprattutto in concomitanza con le oddate di calore. Come vi state organizzando? Abbiamo un reparto in questo momento tranquillo, quindi ci predisporremo alla eventuale ondata anche magari pensando a percorsi alternativi, quali la dimissione di emissioni protette, l'ADI, cercando di evitare il ricovero ospedaliero che può esporre il paziente ad altre complicazioni. Ci sono, dottoressa, dei campanelli di allarme che non bisogna assolutamente sottovalutare? Sì, nel soggetto anziano poi le manifestazioni sono alle volte anche inusuali, quindi noi sudiamo molto, quindi noi visivamente manifestiamo la sensazione di calore eccessivo. L'anziano suda poco, proprio per meccanismi suoi fisiologici, e magari manifesta il colpo di calore con una riduzione dello stato di vigilanza. Ad esempio il paziente può essere più rallentato, più sonnolento, quindi in qualsiasi modo il soggetto anziano ci sembri diverso rispetto al solito, ecco bisogna farsi accendere il campanello perché potrebbe essere un colpo di calore.